Anticipazione clamorosa delle prossime puntate di Una Vita, la sopopera spagnola che sta appassionando anche gli italiani ormai da diversi anni il pubblico italiano si è appassionato alle vicende di una fiction spagnola, che però sta spopolando anche nei nostri palinsesti Stiamo parlando di Una Vita, sopopera trasmessa su Canale 5 Scena di Una Vita, Screen Mediaset, moltissimi telespettatori italiani dal 2015 si sentono coinvolti dalle vicende made in Spagna di Una Vita, sopopera in costume ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920 Riguarda le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, a Madrid Spuntano sul web anticipazioni su cose in vista delle prossime puntate di Una Vita In particolare sul rapporto tra due personaggi centrali, una scoperta che cambierà tutto il senso della vicenda Una Vita, clamorosa scoperta, Genoveva Salmeron ha una figlia tutto verterà intorno alla figura più discussa ma anche amata di Una Vita Vale a dire la Dark Lady Genoveva Salmeron, donna spesso fragile ma allo stesso tempo perfida e da rivista La Salmeron tenterà addirittura il suicidio dopo una strana telefonata arrivatale da suo cugino Anche se, dopo aver assunto i sonniferi quasi mortali, Geneveva perderà il bambino che aveva in grembo Genoveva Salmeron, web surce, ma una clamorosa rivelazione scatenerà il caos nelle prossime puntate di Una Vita Si scoprirà infatti che Genoveva Salmeron ha già una figlia, si tratta di Gabriella, che giungerà nel quartiere Acacias dopo aver scoperto di essere erede naturale della Dark Lady Gabriella è stata cresciuta dalla zia Enriqueta, ma ora sembrerà pronta per donare la madre Genoveva, che scelse di affidarla ai suoi parenti senza mai andarla a trovare o riconoscerla L'incontro tra le due donne potrebbe dunque essere chiarificatorio Ed invece, no. Perché il gran finale della stagione di Una Vita sarà a dir poco clamorosa La figlia Gabriella tramerà contro la madre riscoperta Genoveva Salmeron, così da vendicarsi per gli anni di abbandono Assieme al patrigno Aurelio deciderà dunque di uccidere la donna, così da ereditarne il patrimonio dopo il suo riconoscimento ufficiale come figlia La serie si concluderà con questo botto assoluto, Genoveva morirà proprio per mano della figlia dimenticata Gabriella